Ad Ankara la polizia ha arrestato 60 persone che si preparavano a manifestare davanti al nuovo palazzo del presidente Erdogan. Il presidio era in memoria del 15enne Berkin Elvan, morto il 12 marzo dello scorso anno, dopo nove mesi di coma, e diventato il simbolo della violenta repressione delle forze di sicurezza turche durante le proteste per il parco Gezi nell'estate del 2013. La polizia ha intercettato nel distretto di Mamak due autobus partiti da Istanbul con a bordo i militanti di un piccolo partito di sinistra. Gli agenti sono saliti con la forza sui pullman e hanno attaccato con gas lacrimogeni e urticanti manifestanti che si erano barricati all'interno, resistendo a un ordine di perquisizione. Berkin Elvan era rimasto colpito da un candelotto di gas lacrimogeno durante gli scontri a Istanbul, tra polizia e attivisti che si opponevano alla distruzione del parco Gezi quando Erdogan era ancora primo ministro. Un progetto di legge per rafforzare i poteri della polizia è al vaglio del Parlamento turco, un testo bollato già come liberticida dall'opposizione.